Con la prima domenica di avvento iniziamo un nuovo anno liturgico che ci invita a contemplare il progetto d'amore di Dio per l'umanità e per ciascuno di noi. La parola di Dio in continuità con quanto abbiamo ascoltato sette giorni fa nella solennità di Cristo re dell'universo ci invita alla vigilanza. La verità di fede che professiamo nel credo affermando che Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine deve infonderci speranza e gioia. Nonostante le travagliatissime situazioni della storia umana che ha conosciuto e conosce un numero incalcolabile di guerre e conflitti, di sofferenze e tragedie, il disegno di Dio si compirà, un disegno di bontà, di misericordia, di bellezza. Gesù che una prima volta è venuto nella carne assumendo la nostra condizione umana ritornerà glorioso dando inizio a un tempo infinito in cui regneranno la pace e la beatitudine. Lo stesso Gesù è con noi sempre, ci è vicino, scrive insieme con noi le pagine del libro della nostra vita. Ecco perché come ci ricorda il occorre fare attenzione, vigilare. Gesù ci invita ad accorgerci della sua presenza, a non vivere come se lui non ci fosse, restando pigri o al contrario lasciandoci prendere dai tanti impegni che magari nutrono soltanto il nostro egoismo e il nostro orgoglio. Gesù ci invita a trascorrere il tempo con lui ogni giorno nella preghiera, a far crescere il nostro amore per lui e l'incontro con lui ci permette di orientare la nostra vita al bene, di fare scelte d'amore mettendoci al servizio di ogni persona che diventa una sorella, un fratello con cui condividiamo un tratto più o meno lungo della nostra vita. Questa domenica coincide con la festa di San Francesco Saverio, patrono delle missioni e per voler di San Gaspare anche della nostra congregazione. Francesco Saverio, vissuto nel 1500, si imbarca in Spagna per raggiungere l'Oriente. Affronta un viaggio denso di pericoli che gli permette di raggiungere India e Giappone per poi morire a soli 46 anni in prossimità della Cina. San Francesco Saverio incarna l'ideale del missionario che affronta ogni pericolo pur di far conoscere Gesù, pur di far giungere a chiunque l'annunzio del Vangelo. E questa domenica coincide anche con la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita per sensibilizzare sul tema della diversità e dei diritti inalienabili da garantire a tutti. Ogni persona ha diritto a una vita dignitosa, ma prima di tutto ogni persona ha diritto alla vita. Una possibile disabilità riscontrata durante la gravidanza non dovrebbe essere motivo per non dare alla luce una nuova vita. Qualche giorno fa una mamma nel presentarmi suo figlio, dopo avermi detto il suo nome, ha aggiunto, è un bambino speciale, è autistico. La vigilanza e l'amore di San Francesco Saverio e di questa mamma ci siano di esempio per rendere la nostra una vita che, grazie all'incontro quotidiano con Gesù, sia un servizio generoso e gratuito ad ogni fratello e ad ogni sorella. Vivere la nostra missione ci prepara a ricevere il dono della vita eterna e proprio per offrirci questo dono inestimabile che Dio ci ha voluti nel mondo. Buona domenica e buon cammino di avvento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.